Un'adorazione eucaristica molto intensa e coinvolgente che ha visto radunati nella chiesa di San Nicola a Gesualdo gruppi di preghiera di Padre Pio giunti anche da fuori regione, toccante la benedizione degli ammalati e la testimonianza di Maria Pia Campanini, figlia del noto attore Carlo, amico e figlio spirituale di Padre Pio. Sono una privilegiata perché Padre Pio mi ha fatto capire il valore della sofferenza. Una volta era con papà in corridoio al convento di San Giovanni Rotondo e tutte le persone passavano e dicevano Padre, mi faccia la grazia per mio figlio, padre aiuti mia madre, mio padre, chiedevano tanto. E quando Padre Pio si è trovato solo con papà ha detto Vedi Carletto, tutti vengono qui per farsi togliere la croce Ma nessuno chiede la forza per sopportarla Se l'umanità conoscesse il valore della sofferenza non chiederebbe più il piacere ma solo il dolore Noi cerchiamo di vivere la nostra liturgia con quella passione e cercare di trasferire ai nostri fratelli ecco questo amore di Dio che vuole trovare tutti i modi per potercelo comunicare quale cosa migliore della celebrazione dove si offre con il proprio corpo e con il proprio sangue e da tutto se stesso per noi.